benvenuti da claudio brachino questa nuova puntata di tal press economy cominciamo come sempre con le notizie dall'italia in gran parte positive perché aumentano gli occupati già una tendenza che c'è da tempo e va benissimo insomma il nostro turismo 2023 sono i bilanci 2023 da record ma pare che anche i numeri del 2024 siano positivi cominciamo da qui ad aprile aumentano gli occupati diminuiscono i disoccupati e rimangono sostanzialmente stabili gli inattivi lo rende noto l'istat sottolineando che rispetto al mese precedente l'occupazione cresce di 84 mila unità per uomini e donne per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d'età ad eccezione dei 25 34 anni il tasso di occupazione sale al 62,3 per cento il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce di 55 mila unità il tasso di disoccupazione totale scende al 6,9 per cento quello giovanile rimane invariato al 20,2 per cento confrontando il trimestre febbraio aprile 2024 con quello precedente si registra un aumento del livello di occupazione dello 0,6 per 100 per un totale di 136 mila occupati una crescita che nei tre mesi si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro e degli inattivi 2023 da record per il turismo in italia con numeri superiori all'era pre covid secondo i dati forniti da istat e ministero del turismo sono stati oltre 134 milioni gli arrivi e 451 milioni le presenze negli esercizi ricettivi del paese tra il 2019 e il 2023 gli arrivi nelle strutture ricettive italiane sono cresciuti di 3 milioni le presenze turistiche di 4,5 milioni sono circa 16 milioni gli arrivi in più rispetto al 2022 e oltre 39 milioni le presenze aggiuntive dopo il periodo pandemico la componente estera della clientela torna a prevalere su quella domestica nel 2023 il 52,4 per cento delle presenze turistiche sono riferite a clienti non residenti in italia gli arrivi e le presenze nel settore extra alberghiero crescono del 16,9 e dell'11 per cento rispetto al 2022 e fanno segnare incrementi maggiori di quelli del settore alberghiero lazio e lombardia sono le regioni che crescono maggiormente rispetto al 2022 alla luce del sostenuto incremento delle presenze turistiche delle città di roma e milano da oggi scatta il cosiddetto giorno di liberazione fiscale partite iva lavoratori dipendenti pensionati e imprenditori da oggi lavoreranno dunque per soddisfare i propri bisogni e non più per pagare le tasse le imposte i tributi e i contributi sociali previsti nel 2024 un gettito che per l'erario dovrebbe garantire quasi 910 miliardi di euro risorse che sono indispensabili allo stato per far funzionare le scuole gli ospedali i bus i treni gli uffici pubblici e per pagare le pensioni gli stipendi agli statali e dipendenti degli enti locali a ricordarcelo è la cga di mestre evidenziando come il freedom tax day ci dimostri praticamente quanto sia eccessivo il carico fiscale che continua a gravare sugli italiani sebbene quest'anno la pressione fiscale sia destinata a scendere di 0,4 punti percentuali se dall'inizio di gennaio fino al 2 giugno abbiamo ipoteticamente lavorato per onorare le richieste del fisco adesso fino al 31 dicembre lo faremo per noi stessi e per le nostre famiglie da questo caso di scuola elaborato dall'ufficio studi della cga emerge che per l'anno in corso sono stati necessari ben 154 giorni sabati e domeniche inclusi per adempiere a tutti i versamenti fiscali rispetto al 2023 quest'anno ci liberiamo dal fisco un giorno prima anche se da calendario sono due poiché il 2024 è un anno bisistile e ora le notizie dall'europa insomma la settimana insomma ha danzato tra virgolette sul piano mediatico e politico sull'attesa decisione della bce sul costo del danaro insomma che cosa avrebbe fatto la bce avrebbe tagliato sì o no e di quanto vediamo com'è andata il consiglio direttivo della banca centrale europea ha ridotto di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dopo nove mesi in cui erano rimasti invariati dalla riunione del consiglio direttivo di settembre 2023 l'inflazione è diminuita di oltre 2,5 punti percentuali e le prospettive sono migliorate notevolmente anche l'inflazione di fondo è scesa rafforzando i segnali di un indebolimento delle pressioni sui prezzi spiegano dalla bce la politica monetaria ha mantenuto restrittive le condizioni di finanziamento frenare la domanda e far sì che le aspettative di inflazione restassero bene ancorate ha contribuito in misura rilevante al rallentamento dei prezzi la bce comunque predica prudenza malgrado i progressi degli ultimi trimestri permangono forti pressioni interne sui prezzi e l'inflazione resterà probabilmente al di sopra dell'obiettivo del 2 per cento fino a gran parte del prossimo anno per il ministro dell'economia giancarlo giorgetti la decisione della banca centrale europea è opportuna coerente con la situazione attuale e doverosa il governo italiano auspica che questo sia solo il primo passo in questa direzione via libera dalla commissione europea agli aiuti di stato italiani per sostenere la produzione di oltre 4500 megawatt di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili il regime di aiuti contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'unione europea relativi al green deal aiutando nello stesso tempo a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione verde la misura che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028 sarà finanziata mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali e sosterrà la costruzione di nuove centrali che utilizzano tecnologie innovative e non ancora mature come l'energia geotermica quella eolica offshore e solare termodinamica nel regime di aiuti sono inclusi anche progetti che sfruttano le maree il moto ondoso e le altre energie marine oltre al biogas e alla biomassa in base alla tecnologia il termine per l'entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi secondo la commissione la misura è necessaria e adeguata affinché l'italia raggiunga gli obiettivi climatici europei e nazionali inoltre è proporzionata perché l'aiuto si limita al minimo necessario per stimolare gli investimenti e subito dopo l'europa siamo al nostro focus perché siamo in uno dei grandi temi europei istituzionali economici politici sicuramente insomma che accompagnano la nostra vita insomma era attesa questa settimana la decisione della bc sul taglio del costo del danaro i cosiddetti tassi di interesse l'avete sentito prima nel notiziario che finalmente la bc si è decisa a tagliare almeno un quarto di punto che cosa è successo tecnicamente e le conseguenze e un po' di analisi politico economica la facciamo con il nostro giuliano zoppis che è il nostro economista di fiducia collegato con noi da roma a te giuliano buongiorno claudio buongiorno a tutti e finalmente diciamo dopo dieci rialzi consecutivi dopo nove mesi di tassi fermi oggi la bc si è decisa a ritoccare i tassi di interesse diminuendo di un quarto di punto e l'attesa e adesso è claudio già tutta concentrata su quello che avverrà nei prossimi mesi soprattutto quello che avverrà in luglio il 18 luglio quando la bc tornerà a riunirsi perché questo perché la presidente lagarde ha detto che si continuerà con questa strategia di decisioni riunione per riunione meeting per meeting per vedere cosa fanno gli indicatori macroeconomici e soprattutto l'inflazione perché oggi nel fornire le nuove previsioni per i prossimi anni la bce ha detto che rimane ancora forte la pressione per l'inflazione anche se da nell'ultimo anno c'è stata una diminuzione di 2, punti percentuali perché questo perché comunque rimangono tensioni sui prezzi che sono alimentate sia dall'andamento congiunturale sia dalle incognite geopolitiche quindi probabilmente si ritornerà a parlare di falchi a colombe perché questa strategia del non decidere in anticipo ma di decidere volta per volta implica una serie di ragionamenti che sono legati in qualche modo anche ai diversi atteggiamenti che paesi hanno nei confronti della politica monetaria quindi vedremo un po cosa succede peraltro claudio siamo abituati alle profezie sbagliate da parte della bce insieme alla fed del resto negli anni passati aveva detto che il rialzo dell'inflazione era un episodio erano come dire fattori episodici e non congiunturali aveva detto che comunque l'europa sarebbe andata in recessione e questo non è avvenuto anzi siamo in presenza di una leggera ripresa quindi effettivamente quello che succederà nei prossimi mesi e a luglio è tutto da vedere però claudio se vogliamo parlare ci sono implicazioni importanti per questa decisione ecco allora io però prima prima parliamo delle implicazioni le conseguenze per i nostri cittadini nostri concittadini parliamo di italiani in questo caso abbiamo un grande debito pubblico abbiamo i problemi delle imprese abbiamo i problemi di chi ha un mutuo a tasso variabile questo quarto di punto cosa cambia nel breve termine allora per quello che riguarda i cittadini ovviamente implica una riduzione delle rate da pagare e coloro che avevano già devo dire sono la maggioranza sottoscritto mutui a tasso fisso già da qualche mese si erano accorti di questa riduzione perché il mercato aveva anticipato già essendo mutuo a tasso fisso un andamento in discesa bisogna aspettare invece la decisione sui tassi variabili per quello che riguarda tutti coloro che hanno appunto preso un mutuo o un prestito tasso variabile dai primissimi calcoli questo quarto di punto implica una riduzione che oscilla fra i 160 e 200 euro all'anno per chi ha sottoscritto fissi e variabili più o meno ci sono delle differenze ma più o meno significa questo siamo lontani ovviamente da quelli che erano i mutui di qualche anno fa ma è tornare a quei livelli sarà molto complicato per quello che riguarda le imprese questo significherà certamente un allentamento di pressione e quindi un ritorno a una liquidità più facile più agevole da prendere quindi i prestiti meno onerosi per quello che riguarda invece la finanza pubblica abbiamo come dire un doppio effetto da una parte sicuramente il mef il tesoro dovrà pagare meno debito e quindi probabilmente i tassi saranno tassi più vantaggiosi per le casse dello stato però di contro frenerà sicuramente claudio quello che è stato il fenomeno di questi ultimi due anni cioè il ritorno dei bot people che si sono trasformati in btp title perché comunque diciamo abbiamo visto che le grandi affluenze di richiesta dei btp hanno portato ad aumentare la quota del debito pubblico italiano in mano ai cittadini ovviamente diminuendo i rendimenti è assai probabile certamente sicuro che questa voglia di btp diminuirà ti faccio un'ultima domanda è un po più politica già in queste ore prestazione insomma è passato meno di un giorno rispetto alla decisione della bce insomma una marea di commenti c'è chi dice guardate alla fine avete visto l'inflazione comunque è stata sconfitta scessa ancora al 2 6 quindi la bce ha fatto il suo lavoro e c'è chi dice però insomma alla fine la montagna ha partorito il topolino anziché sei ribassi di un quarto di punto l'uno per sei mesi consecutivi in maniera da dare anche una visione sia appunto ai cittadini che al mercato si fa una cosa che ha una valenza quasi elettorale tenendosi poi aperta la porta scusate il gioco di parole per a luglio rimanere così alti ancora chissà per quanto che ne pensi ma guarda e claudio ci sono due spinte contrapposte e onestamente un allentamento troppo rapido dell'inflazione non sarebbe coerente con l'obiettivo che la bce si è dato di tornare verso il 2 per cento e oggi ci hanno detto che la previsione di questo rientro 2 per cento nel 2025 in realtà non sarà così perché si parla di un 2,2 per cento di contro invece tassi eccessivamente restrittivi per troppo e a lungo tempo farebbero probabilmente creerebbero una così dire un contesto di stagnazione perché porterebbero l'inflazione al di sotto dell'obiettivo del 2 per cento quindi la difficoltà della bce che comunque vede avvicinarsi questo obiettivo questo tag del 2 per cento sarà proprio bar camminarsi fra questo non credo che si possa dare una valenza pre elettorale a questa mossa perché i mercati ormai spingevano fortemente verso questa direzione e ricordiamoci che oltretutto abbiamo una forte a questo punto differenza con l'altra parte del mondo perché invece negli stati uniti l'inflazione effettivamente ancora altre tre e mezzo per cento e probabilmente lì sarà più lontano questo obiettivo di riduzione però gli analisti alcuni almeno quelli più ottimisti prevedono almeno altri due se non tre tagli la parte della bce nel 2024 vediamo se saranno queste diciamo le aspettative e si realizzeranno grazie allora al nostro giuliano zoppis ci vediamo insieme il servizio che c'è sempre il nostro formato sono le levità del mondo dell'e-tech intelligenza artificiale e europa quindi parliamo ancora di europa però avanti piano vediamo secondo una relazione della corte dei conti europea l'unione ha avuto finora poco successo nello sviluppare un ecosistema di intelligenza artificiale e non è riuscita a far accelerare gli investimenti nel settore a un ritmo paragonabile a quello dei leader mondiali da 2015 gli investimenti in strumenti di capitale di rischio sono stati inferiori a quelli di stati uniti e cina la corte dei conti europea stima che il divario in termini di investimenti complessivi nell'intelligenza artificiale sia più che raddoppiato tra il 2018 e il 2020 l'unione europea è rimasta indietro per più di 10 miliardi di euro in questo contesto ha progressivamente adottato misure per sviluppare un quadro per coordinare il settore al proprio interno aumentando gli investimenti e adeguando la normativa tuttavia a più di cinque anni dal primo piano varato dall'unione il quadro di coordinamento e di regolamentazione degli investimenti nell'intelligenza artificiale è ancora in corso di elaborazione la corte dei conti formula critiche in merito al coordinamento tra la commissione e gli stati membri che ha avuto soltanto effetti limitati questo perché l'esecutivo dell'unione europea non disponeva delle informazioni degli strumenti di governance necessari inoltre secondo i magistrati contabili gli obiettivi di investimento dell'unione sono ancora troppo vaghi e ormai obsoleti e siamo nel nostro format al momento dell'intervista che come sapete c'è sempre un ritratto nel nostro settimanale oggi accettato il nostro invito davide verdesca qui negli studi di milano grazie a milano ci siamo conosci in occasione di un convegno recentemente è stimolato una marea di curiosità nei miei confronti curiosità che voglio trasferire anche al pubblico perché penso ci siano gli elementi di qualità no per farlo verdesca è SEO di S G maiuscolo tutto maiuscolo con company in fondo allora poi lì siamo andati a vedere voi il pubblico lo sa perché mi conosci dal settembre 2022 io sono un maniaco della traduzione delle sigle degli agronomi insomma quindi S sta per sharing e G sta per group allora come mai prima diciamo perché questi nomi poi parliamo della storia dell'azienda che è una governance particolare particolare ma semplice complessa ma semplice allora andiamo allora S G perché S G perché noi siamo un insieme di tante aziende S G è un percorso imprenditoriale che ha acquisito le governance e quindi aziende che hanno delle loro delle loro diciamo core business completamente diversi tutti nel mondo della comunicazione e di fatto le governa per dare al cliente alle aziende un'offerta unica unica e è differente da tutto il resto delle aziende quindi sicuramente con delle verticali estremamente estremamente performanti ma tutte racchiuse all'interno di un basket unico che è S G company che di fatto controlla ulteriori aziende oggi sono sette otto realtà complete con il manager e con l'imprenditore originale però ne sono di proprietà di S G. Prima di vedere dalla prima un po' la storia di come sia composta questa federazione la posso chiamare federazione di aziende? Noi le chiamiamo sister company perché rimane l'imprinting originale la voglia di performare la voglia di collaborare portando valore poi al gruppo quindi di fatto sono sister company perché collaborano e sono molto integrati in un ecosistema quindi è un vero e proprio ecosistema. Ok allora perché l'idea del sharing e della crescita del growth? Allora io non credo per la storia di condividere una crescita sana che deve essere non di gigantismo puro perché la realtà è che noi stiamo spingendo il talento e le grandi competenze non ritengo che oggi come oggi ci siano le capacità ma anche sul mercato di vendere soltanto per il prezzo a me quello non interessa noi da sempre ci siamo sempre voluti posizionare per la parte qualitativa la parte di pensiero la parte strategia e la parte di contenuto non solo i muscoli poi ovvio siamo una realtà grossa oggi siamo 160-170 persone tra una cosa tra tutte le varie società e continuiamo a crescere. Siete principali a Milano giusto? Noi oggi siamo divisi tra Milano, Roma, Torino e Rimini quindi a Milano abbiamo 4-5 sedi il headquarter è qua in piazza Oberland in Porta Venezia poi le varie società le varie system hanno i loro uffici le loro organizzazioni noi abbiamo poi all'interno di SG company quindi nella parte di headquarter tutta la formazione di tutte le società la parte delle gare di bando quindi partecipiamo a bandi pubblici e spacchettiamo quello che può essere l'offerta creando proprio il gruppo di lavoro per rispondere a un bando abbiamo la creazione di format proprietari e quindi creiamo format proprietari che in uno di questi ci siamo conosciuti poi abbiamo la parte di marketing che gestiamo il marketing per tutto e la parte di new business per tutte le aziende poi ogni azienda la propria organizzazione abbiamo una società del gruppo che cura tutto il back office di tutte quindi vuol dire che le società nostre quindi sinergia, FMA, Lauder, NET, MIT, poi chi... sono tante di fatto si occupano del prodotto sono fortemente focalizzate alla parte qualitativa del prodotto e a produrre quello per cui sono nate e insomma le abbiamo avvicinate quei acquisiti sicuramente c'è un nome che non può dimenticare che è la prima società Allora è vero Claudio la mia sinergia è nata con me sta cambiando siamo già all'evoluzione siamo alla 3 è nata nel 2000 quindi è nata sei mesi dopo la nascita della mia prima figlia perché Giulia la mia prima figlia è nata a settembre del 99 e io ho detto o nasce adesso la mia quindi mi butto in un'avventura nuova oppure non farò mai più sinceramente è stato facciamolo quindi posso dire che la seconda figlia perché è nata a cavallo tra la prima e la seconda diciamo che la terza la seconda è diventata terza per colpa di sinergie però la verità è che sì io mi occupo ancora molto di sinergia anche se pian pianino oggi tanto mio focus è proprio sulla capogruppo sulla crescita strategica e il riposizionamento di tutto perché ho imparato una cosa in questi anni è più bello rinascere che nascere e quindi oggi l'idea di evolvere le aziende farle diventare più competitive più umane anche perché tante volte ci si dimentica che le aziende sono fatte di persone e metterle in un sistema dove lo scerare quello che può essere la cultura la voglia di fare è proprio per farle collaborare perché la difficoltà non è acquisire le aziende bastano soldi la difficoltà è integrare fare in modo che le persone stiano meglio di prima e producano meglio di prima e questa è la vera difficoltà io allora infatti quello che voglio trasferire siccome qui vengono qui spesso esponenti di tante aziende diverse qualche volta anche aziende di tipo tradizionale qualche volta sono delle PM importanti oppure sono grandi anche case automobilistiche io credo che l'azienda che insieme di aziende di cui ci ha parlato lei oggi io devo usare lei professionalmente perché è sempre faticoso ma bisogna farlo e sia un po' però siccome qui si occupa anche di start up di gente che oggi viene qui e parla di anche come devono funzionare le start up o i motori delle start up sia un'azienda che ha un po' una governance particolare e anche questo principio che c'è dietro direi di rinascere in continuazione che secondo me va trasferito oggi un po' anche ai giovani che si apprestano insomma in questo modello industriale che è molto diverso da quello del Novecento che appartiene alla nostra epoca e poi lei questo non lo sa ma io tante volte sono intervenuto in tanti convegni e uno anche recentemente per togliere la parola fallimento ora è stata tolta anche dalla nostra cultura giuridica non è proprio stata cancellata come parola che appartiene addirittura a un'istigazione a un reato al suicidio ma per esempio io ho molti giornalisti che lavorano per me dall'America anche noi con Interpress lavoriamo da ottobre scorso con l'America e che dicono che in America non c'è la parola fallimento chi fa una start up la chiude si dice che non è andata abbastanza vicino al suo sogno ma ci riproverà la seconda volta non è né un reprobo né uno da punire né uno che perde la sua identità sociale ecco io credo che questo spirito credo sia se non ho capito male lo spirito anche con cui più di vent'anni fa lei ha intrapreso questa cosa vada un po' trasferito diciamo dentro un modello generale se non lei dovrebbe insegnarla questa cosa dovrebbe trasferirla è molto vero non so se ho capito male è molto vero fare una start up noi ne abbiamo fatte tante non è detto che vadano bene ma lo start up paro soprattutto in Italia ha veramente una missione quasi ciclopica uno perché è difficile attrarre capitale è difficile trovare un mercato e soprattutto gestire una start up è un altro mestiere rispetto a fare impresa quindi lo start up paro colui che ha una visione una missione riesce anche ad atterrare a trovare la fiducia la realtà è che poi deve anche dimenticarsi che sia una start up e deve avvalersi di manager o far parte di un'impresa ma non è la stessa mentalità non è la stessa cultura è come pensare di fare ricerca e fare il professore magari le nozioni sono identiche ma sono completamente approcci diversi quindi nella logica è dare spazio ai giovani prendere il meglio prendere i loro sogni e anche le loro technicality ma poi metterli a sistema e allora farli diventare azienda noi abbiamo degli incubatori abbiamo fatto investimenti abbiamo fatto anche un percorso con diverse start up per poi metterle a sistema ma loro non sanno gestire l'impresa loro devono rimanere su quello che è il sogno poi metterlo a sistema e farlo evolvere farlo crescere è un lavoro completamente diverso e spesso e volentieri le start up in Italia in giro per il mondo muoiono perché il salto non si è in grado di fare sono proprio persone diverse la verità è che il talento esce dopo tanto allenamento lo start up paro chi fa start up e spesso e volentieri rimane ancorato al sogno e quando poi diventa normalità si disinnamora e a quel punto la start up muore senta lei mi ha parlato della serie di limini perché insomma di origine romagnone io sono no 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 se lo dico a mia madre emiliano io sono emiliano se lo dico a mia madre ci rimane male allora bisogna dire è vero perché io insomma per i miei motivi familiari sono più legato alla romagna bisogna stare attenti gli emiliani sono una cosa i romagnoli sono una cosa emiliano io sono di estrazione emiliana tra Parma e Reggio Emilia di Vetto Dens la mia famiglia di origine è di Vetto Densa mia madre vive a Vetto Densa però per assurdo sono più simpatici i romagnoli e noi abbiamo questo non mi permetto no 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 lo dico io da emiliano nel senso che i romagnoli sono molto più a cuore aperto sono più gioviali gli emiliani sono tendenzialmente più di terra più contadini sono più coi piedi per terra i romagnoli sono godereci ma quanto ha inciso questa sua radici su quello che ha fatto? ha inciso che io do più valore alla relazione rispetto a quello che possa essere dietro la relazione si può fare col business si possono creare delle grandi amicizie non ho mai fatto business con l'amicizia ecco divido molto le cose cioè dal mio punto di vista è corretto avere e diventare amici di un cliente non mi permetterei mai di chiedere a un amico di diventare cliente perché lo trovo veramente poco qualificante nei confronti proprio dell'amicizia diciamo un'altra parola sharing l'abbiamo detto condivisione growth l'abbiamo detto crescita diciamo l'altra parola magica di oggi che è la sostenibilità che cos'è per lei la sostenibilità e quanto incide nel suo modello di business o sulle richieste che le vengono fatte poi faccio un'altra domanda sulla sostenibilità secondo me e lo dico con una tante 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 riflessioni degli ultimi periodi si è molto abusato del concetto di sostenibilità io sono un velista da quando ho 4-5 anni vado in barca vela negli ultimi 10 anni non ho mai fatto una vacanza fuori dalla barca vela se non quelli invernali piuttosto che l'idea di avere un'economia sostenibile è avendo la comprensione delle risorse finite noi non viviamo in un pianeta infinito non viviamo in un pianeta dove in automatico succede la rigenerazione quindi dobbiamo avere la percezione la consapevolezza che abbiamo tot acqua come avere tot soldi nel portafoglio a nostra disposizione il concetto della famosa cicala e formica noi viviamo molto al di sopra delle nostre possibilità ma non personali ma proprio del pianeta l'idea di arrivare alla comprensione che abbiamo di fatto risorse finite vuol dire prendere atto che stiamo distruggendo il futuro di qualcun altro non il nostro perché probabilmente noi i nostri figli i nostri nipoti se la vivranno bene però non funziona noi stiamo distruggendo quello che è una ricchezza che abbiamo ereditato quindi è in prestito non è nostra è nostra per un piccolo pezzettino di tempo la verità è che oggi per essere sostenibili dobbiamo partire dalle piccole cose quindi vuol dire avere come una io mi auguro perché noi oggi stiamo avvicinando su tutti i nostri servizi su tutti i nostri prodotti la certificazione ESG ma addirittura la tracciabilità del concetto di tramite anche tecnologie blockchain e altro l'idea di essere carbon avere una sorta di carbon neutral personale io mi auguro che un domani potremo avere una sorta di nostra identità digitale ma che certifichi la nostra catena di acquisizione di servizi e valore dove in qualche modo io so che posso consumare in virtù di quello che sono i crediti carbon che ho in qualche modo acquisito io vado in Barcavela posso andare in giro in Lamborghini facciamo un esempio non è la mia macchina preferita però Barcavela Lamborghini poi diventa antipatico assolutamente qualcosa diceva Berlusconi è stato il mio maestro diceva i venditori pubbitalia se andate in un posto avete la Porsche parcheggiato anche a ogni distanza assolutamente però il mio tema è questo ad esempio noi stiamo facendo un progetto per rispolverare una grande competizione nazionale che arriva dalla storia tipo Targa Florio o Mille Miglia con auto d'epoca che sono inquinanti per loro natura perché non sono elettriche ma allora dico per renderla sostenibile non devi cambiare i motori facciamo in modo che durante l'anno prima di arrivare alla gara gli equipaggi si certifichino in loro tracciando il loro stile di vita per dire io ho acquisito crediti e quindi sono stato sostenibile perenne tempo mi posso permettere di consumare un po' dei miei crediti in una gara se no non posso partecipare alla gara come concettualmente riuscire a essere un pochino più virtuoso in una vita ordinaria per poi potersi permettere noi qui facciamo nel multimediale nostro oltre ai Tarpes Economy altri prodotti anche proprio un programma specifico sull'ISG lo fa il collega Marelli ecco quanto queste che sta per ambiente social e governance quanto questa metrica governa nelle sue società le sister e quanto invece la ritrova come parametro nelle attività di business che fa perché a me è tra l'esercizio una società importante come ASG Company che lei ha descritto innanzitutto è una governanza quanto italiana è un 100% italiana ma quanti modelli ce ne sono di queste società in Italia come noi nessuna come noi nessuna per questo mi sono incuriosito perché cercavo di capire quanti poi l'ha copiata e fatta ma questi tre parametri quanto sono praticabili per lei e quanto sono praticabili nell'attività di business che svolge allora io credo per essere sinceri per essere pratici noi nel mondo nostro siamo stati i primi e questo l'abbiamo fatto durante e pre-covid e quindi abbiamo sfruttato anche il momento diciamo di freeze generale per diventare società benefit PM innovative e altro però l'abbiamo fatto cambiando completamente veramente la cultura interna dotandoci di quello che è addirittura imponendo delle regole noi abbiamo tolto le stampanti noi abbiamo la nostra parte 10 AR che manda lettere cattive se uno stampa inutilmente ma non per il costo della stampa che è niente ma proprio per insegnarla ma poi se serve serve che sia chiaro cioè il tema non è castigare il tema è cercare di educare che si può fare a meno il tema vero io credo che deve esserci prima un passaggio di comprendere cioè dobbiamo far comprendere le motivazioni portare le persone ad acquisire queste virtù non imporle e poi pian pianino metterle all'interno di tutti i processi quindi si può fare oggi con la tecnologia allo stesso tempo dobbiamo essere pronti a rispettare verso i clienti insomma offrendo soluzioni alternative e chiedere ai nostri fornitori imponendo certe metriche certe esigenze nostre allora il tempo è finito noi siamo rigorosi col tempo due secondi per l'ultima domanda poi sarà piacere fra qualche mese ci rivediamo per un fact checking anche storico io voglio fare delle domande anche di contesto culturale storico lo facciamo magari la prossima volta visto che la carta di identità stavolta è stata fatta ma io mi occupo spesso di PMI ma poi nella realtà le nostre PMI che sono gran parte del nostro capitalismo su questa sostenibilità ci girano intorno o la praticano? è difficile dividere i buoni e i cattivi io credo che sia una grande opportunità praticarla perché la differenza non è nel dichiararlo perché la realtà è che poi prima o poi arriveremo a doverlo fare quindi è tutto un tempo perso non farlo oggi è un tempo guadagnato se partiamo prima cioè prima o poi dovremo arrivarci quindi è assurdo non pensare di farlo pian pianino abituandoci piuttosto che fare la maratona quando non saremo più in grado di tempo per farla un po' come insomma arrivare all'abbassamento climatico dobbiamo farlo pezzettino per volta ecco le abbono la discussione sul green che la faccio insomma negli ultimi ore della campagna elettorale ma la abbono da questa discussione la faremo finite le elezioni più avanti e fuori dalla par condizion senti io la ringrazio di essere stato qui da noi grazie a Davide Verdesca e CEO di SG Company che abbiamo capito cos'è ci vediamo insieme se a piacere il nostro servizio sull'agri-food vediamo è stata raggiunta l'intesa in conferenza stato-regioni sul decreto che prevede 2 milioni per il sostegno alla filiera ovina IGP per gli allevatori il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che si tratta di un provvedimento particolarmente atteso che va incontro alle difficoltà segnalate dai produttori sul premio accoppiato PAC 2023 Con il decreto il governo interviene per tutelare le tre denominazioni IGP nazionali Abbacchio Romano IGP Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP L'iniziativa sottolinea l'importanza di sostenere le filiere agroalimentari italiane di eccellenza garantendo la continuità e la prosperità dei settori coinvolti Per Origin Italia grazie a questo intervento tempestivo si tutelano non solo le aziende e migliaia di posti di lavoro ma anche il determinante ruolo che queste filiere hanno a livello di sostenibilità sociale economica e culturale nei rispettivi territori d'origine E' tutto per questa puntata ricchissima come sempre di notizie di immagini approfondimenti come hai sentito anche interviste e ritratti interessanti di figure imprenditoriali noi ci fermiamo qui per questa settimana poi si vota insomma per le europee ci rivediamo la settimana prossima in cui ritorneremo a raccontarvi tutte le principali notizie dell'economia e della politica economica del nostro paese e non solo arrivederci un'escapacito un'escapitato è un'escapitato un'escapitato Grazie a tutti.